Champions League? No, guarda, non conosco nessuna Champions League. Mondiale? No, neanche quello, neanche quello. Sì, fata sport! Fate una buona partita, mi raccomando! Importante divertirsi! E non stiamo assolutamente rosicando. Allora, fammi pensare. Visto che ci ha eliminato il Villareal, dovrei tifare il Liverpool. Perfetto, sembra un'ottima scelta. Sì, ma poi giocate, intanto io mi faccio come i miei. Oh, ma guarda, la notifica di un gol. Perché c'è una partita. Ma sì, cos'è sta competizione sopravvalutata? La Champions League! Sempre meglio il campionato! Oddio, dipende da che squadra tifo ultimamente.